Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il fatto, il conto alla rovescia sta per scadere, tra poche ore Pescara ospiterà il G7, un evento, è stato detto, storico, ma questo è la palissiano, un grande riflettore acceso sulla città regione, dopo tanti anni dal G8 dell'Aquila, quello famoso che avvenne dopo il terremoto, che porterà la città adriatica, in questo caso il capoluogo adriatico, ad ospitare i grandi del mondo. La città è pronta, peraltro poche ore fa è stato anche inaugurato il Corso Umberto nel suo nuovo look, qualche disagio ci sarà inevitabilmente, ma è un'occasione di grande prestigio per la città e in cui ci si terrà sicuramente a fare bella figura. Ne parliamo con il deputato di Pescara, il collegio di Pescara, Guerino Testa, ospite nei nostri studi, buonasera. Buonasera direttore, buonasera a chi ci ascolta da casa. Ecco, lei è intervenuto più volte in queste settimane di attesa dell'evento, per ribadirne la centralità, l'importanza e anche la scelta della città di Pescara che è avvenuta in tempi già non sospetti, perché ci si è lavorato in passato con un bel lavoro diplomatico di squadra, mi pare di capire, e poi perché anche l'Abruzzo, una regione così piccola, avesse invece i riflettori accesi come altre più prestigiose regioni italiane che stanno ospitando le varie tappe del G7 2024. A che punto siamo, qual è lo stato d'animo e qual è l'emozione anche un po' della vigilia? Innanzitutto mi piace evidenziare come Pescara, pur non essendo ad oggi una città di dimensioni elevate, da anni ormai stia sgomitando nel senso buono il termine per ottenere, per far atterrare sul nostro territorio manifestazioni di primo piano. Il G7 che da domani sarà in pianta stabile nella nostra città non è un fatto da non poter mettere in grande evidenza, se ne è parlato tanto, se ne parlerà ancora tanto, i temi che verranno affrontati sono temi di grande centralità, di grande importanza, di grande attualità e quindi è giusto che Pescara abbia il dovere di farsi trovare pronta nel migliore modo possibile. Quindi tutto ciò che è avvenuto in questi giorni per quanto riguarda i preparativi non possono essere oggetto di nessun tipo di critica perché una città più bella sicuramente piace a tutti, una città più pulita piace a tutti, le sedi istituzionali rimesse tra virgolette a nuovo, più illuminate, più luminose, siano sicuramente uno specchietto importante per la nostra città che sempre più si sta ritagliando un ruolo centrale anche nello scacchiere europeo e questo è un dato secondo me da mettere in evidenza, così come a volte si parla anche troppo di filiere politiche e partitiche, però penso che la filiera che da qualche anno va in onda tra il Comune, la Regione e il Governo stia portando oggettivamente dei risultati molto apprezzabili. Ecco, lei in passato è stato anche molto franco, in parte diciamo anche un po' autocritico rispetto alla gestione soprattutto della comunicazione degli eventi, non degli eventi in sé che sono avvenuti in città. Stavolta bisogna dire che tutti sanno che c'è il G7, tutti sanno che ci sarà qualche sacrificio da sopportare. Sicuramente però ci sono ancora tantissime persone che ti chiamano, che ti fermano e dicono ma io domani se mi devo spostare da un posto all'altro, dove devo parcheggiare, sicuramente lo dico anche a me stesso per portare i ragazzi a scuola bisognerà uscire un po' prima, vorrei anche sgomberare un po' il campo da una frase uscita sui quotidiani i giorni scorsi dove si invita a non venire a Pescara. No, così come avviene nelle grandi manifestazioni oppure quando c'è il brumo di spostarci se ci sono delle oggettive necessità. Quello era il messaggio che si voleva mandare. Pescara è, rimane e rimarrà sempre una città aperta, ospitale e quindi più persone vengono e noi siamo sempre più contenti. Poi magari il bilancio lo trarremo dopo, però bisogna dire, bisogna dare atto che in fase di preparazione anche un grande lavoro è stato svolto dalle istituzioni, dal prefetto e da anche tutta la macchina che supporterà la gestione dell'evento fatta dai tanti volontari e da tutte le figure che collaboreranno. I volontari, i dipendenti comunali che ringrazio, lei ha fatto bene a mettere in evidenza la figura del prefetto della provincia di Pescara, non della città di Pescara come a volte si dice in maniera erronea. Dico questo perché anche c'è un'evoluzione dell'attività del prefetto, non è più l'uomo o la donna che sono dentro i palazzi e molto istituzionali, ma sono donne uomini che interagiscono molto con le pubbliche amministrazioni, con le istituzioni e quindi questo è un valore aggiunto sicuramente. Parlo sia del prefetto che ovviamente del questore. Sono tre giorni in cui ovviamente ci si attende anche una gestione ordinata degli eventi e anche delle eventuali manifestazioni che potranno civilmente essere di contestazione alcuni temi del G7. Ma a proposito dei temi del G7 mi piace dire che sono introdotti anche altri rispetto a quelli inizialmente legati soltanto al tema dello sviluppo, a riferimento al tema anche per esempio della fame nel mondo e anche dei temi legati alla pace. Alla pace, alla cooperazione, alla fame, sono tutti temi di grandissima attualità che devono, che hanno il dovere di essere scandagliati e discussi quotidianamente perché sono temi troppo centrali e l'Europa deve fare fino in fondo il proprio dovere per cercare non di risolvere questi problemi perché sono problemi irrisolvibili to cure, parliamoci chiaramente, però le istituzioni poco alla volta devono cercare di centrare gli obiettivi che si danno, ossia quelli di mitigare al massimo queste problematiche, sono problemi che a volte vediamo molto distanti dal nostro territorio, dalla nostra realtà, invece sono problemi che hanno una vicinanza molto prossima. Lei parlava della filiera ai vari livelli di governo in questi ultimi anni, in particolare ci riferiamo agli ultimi due di governo Meloni che avete celebrato nel fine settimana all'Aquila con una convention che ha riunito tutte le forze del centro-destra e che ha anche avuto la presenza del neoministro della cultura Giulio. Dal punto di vista in particolare del suo collegio elettorale quali sono i risultati raccolti in questi due anni di raccordo con il governo Meloni? A me piace mettere in evidenza che nella prima finanziaria, quindi ci eravamo insediati da pochissimo tempo, anche qui la comunicazione secondo me forse deve ancora più essere evidenziata, il governo stanziò 14 milioni di euro per dare ristoro a tutti i cittadini che erano stati estromessi dalle proprie abitazioni, dalle proprie proprietà per la realizzazione di 50 anni fa dell'asse attrezzato. È un problema che era stato risolto da chiunque, da tutte le forze politiche, anche qui c'è stata una differenza molto chiara, molto laparissiana, c'è chi parla e c'è chi fa, c'è chi cerca di dare continuità alle cose dette in campagna elettorale e questo è il nostro obiettivo, così come i tanti soldi che sono stati calamitati sulla regione Abruzzo, ad esempio sul potenziamento della ferrovia Pescara Roma che ancora oggi fa discutere e capisco i problemi che qualche cittadino può avere nel vedersi tolta e spropriata la casa, ovviamente dietro un ristoro. Però a volte ci sono dei temi, degli obiettivi molto più alti dalle nostre singole aspettative e ahimè non la voglio fare facile, però bisogna cercare di superare questi problemi, cercando di essere il più prossimo, il più vicino alle stanze dei cittadini, dare il giusto ristoro, perché io capisco specialmente un anziano al quale viene tolto un'abitazione non è una cosa di poco conto, però se vogliamo ammodernare il nostro parco infrastrutturale qualche sacrificio lo dobbiamo per forza fare. E poi penso alla gestione dei piccoli tribunali anche se non riguardano proprio la città di Pescara ma riguardano anche la provincia con termini che è quella di Chieti, però io penso che quando uno ha l'onore di fare il parlamentare ha il dovere di essere utile per tutto il territorio regionale. A questo voglio anche aggiungere la grande attenzione che si è data all'Abruzzo anche per le tante manifestazioni che hanno visto il nostro territorio brillare e essere al centro dell'attenzione e quindi si continua a dare risposte al turismo per quanto riguarda il mondo, il mondo del comparto della montagna, sulle infrastrutture l'abbiamo detto e poi c'è sempre il grande tema insieme alle regioni della sanità che è un tema che vedo dividere spesso maggioranza e opposizione ma ci sono dei dati ineludibili che dicono come mai come in questi anni c'è stato un aumento di risorse a favore della sanità. Qualcuno mi potrà dire però per fare la TAC devo sempre aspettare tot mesi, le liste d'attesa sono sempre enormi, i pronti soccorso non funzionano così come dovrebbero, è vero ma è un discorso molto complicato che non riguarda solo la nostra regione e qui non mi voglio nascondere dietro un dito ma è uno dei tanti obiettivi che questo governo e con il ministro Schillaci spesso se ne è parlato si vuole raggiungere. Testa inizia per lei una stagione di grande lavoro in commissione per la legge finanziaria, lei ha spesso seguito queste partite anche specifiche regate anche alla riforma fiscale oltre che alle misure prese dal governo, c'è un gran discutere su quelle che saranno le strategie, sappiamo che spesso però la finanziaria poi cambia anche molto in Parlamento quindi parliamo di quello che sappiamo ad oggi, lei come giudica il testo che affronterete prima delle commissioni e poi dell'aula? Il fatto che questa finanziaria così come è stata approcciata non piaccia al centro-sinistra vuol dire che è una finanziaria che sta avendo, che è una finanziaria almeno per noi positiva perché ci sono due visuali, due idee diverse di finanziaria da parte del centro-destra e da parte del centro-sinistra. Voglio mettere in evidenza un tema che mi appassiona molto è quello del cuneo fiscale che ormai è diventato strutturale, il cuneo fiscale si è parlato per tanti anni e anche qui mi dispiace un po' dire come ci sia la faziosità del centro-sinistra anche di qualche sindacato che come può non ammettere in maniera evidente che questo governo stia prendendo le difese delle fasce più deboli, cioè delle fasce che riguardano i lavoratori che non arrivano ai 40 mila euro di reddito annuo, parliamo anche delle imprese perché il cuneo fiscale agevola sia l'una che l'altra parte e quindi da misura spot come qualcuno pensava che fosse è diventata una misura strutturale con una decurtazione di punti percentuali importanti. Il tema della sanità come ho detto è uno dei temi premianti e centrali di questa finanziaria, sia la flat tax ma anche il potenziamento dei redditi fino a 40 mila euro e poi ci sono tante partite che devono essere ancora giocate che sono in questi giorni oggetto di ulteriore valutazione da parte degli uffici competenti. Prima della finanziaria andremo nei prossimi giorni a portare a casa il decreto fiscale il decreto sulle DL infrazioni, detto il DL franzone dove si parla anche di Balneari che è una delle note più dolenti di questo periodo. Io sono uno dei correlatori di questo provvedimento e speriamo di poter dare anche in questo settore qualche risposta ben sapendo che a me non piace dire che si sono ereditate situazioni difficili e quindi diciamo mettere un po' accampare qualche scusa anche perché il cittadino se ti ha dato la fiducia vuole attende delle risposte, però è indubbio come ci sono alcune situazioni che hanno in qualche maniera incancrenito i conti pubblici, ad esempio gli oltre 190 miliardi di reddito di cittadinanza. Anche qui voglio mettere in evidenza un altro fatto, come molti dicevano che senza il reddito di cittadinanza ci sarebbe esplosa una bomba sociale, ciò non è avvenuto, ci sono più di 800 mila posti di lavoro a tempo indeterminato. Ricordiamoci l'allora Presidente Silvio Berlusconi quando parlava di un milione di posti di lavoro sembrava una cosa difficile da poter raggiungere, invece sono contratti a tempi determinati un numero importante che riguarda le donne, che riguarda i giovani e poi i dati economici e finanziari che quasi tutti i giorni vengono forniti dalle società più importanti a livello mondiale, europeo e che fanno evidenziare come l'Italia che prima era sempre dietro la Francia, la Germania, i paesi più industrializzati, oggi invece viene vista come punto centrale e voglio mettere in evidenza come anche la tassazione dal 43% stia scendendo al 41% circa, quindi meno due punti percentuali, che è sempre una tassazione elevata, però in due anni penso che risultati positivi ce ne siano stati, ma dobbiamo fare sempre, sempre di più. Avremo occasione di riparlarne appunto perché come dicevo la finanziaria è soltanto ai nastri di partenza, così come ai nastri di partenza il G7 da domani per tre giorni a Pescara, obiettivo, ripeto, è fare bella figura. Grazie ancora Abguerino Testa, grazie a lei direttore, buonasera a tutti. Grazie ai nostri spettatori, appuntamento a domani con il Fatto, arrivederci.